In Serie C il weekend è trascorso senza tanti movimenti di calciomercato da parte delle società campane. La cavese dell'allenatore Giacomo Modica valuta se ci sarà la possibilità di ingaggiare un esterno sinistro di difesa, ma nel contempo i suoi giocatori piacciono. Il portiere Alessandro Vono, uno degli elementi chiave della squadra, sarebbe sul taccuino della casertana ma non si dovrebbe muovere da cava dei tirreni. I metelliani hanno svolto l'ultimo allenamento della scorsa settimana al Superga di Mercato San Severino, dove la cavese non metteva piede da un anno e mezzo. Domani il primo allenamento di questa settimana in vista della trasferta di Brindisi con la Virtus Francavilla. La Paganese, che punta a lasciare l'ultimo posto e giocarsi la salvezza, sta facendo qualche progresso. È stata sconfitta 3-0 dal Frosinone nell'allenamento congiunto di ieri in terra laziale, ma il primo gol l'ha subito all'ora di gioco dal centrocampista Valzania. Nel finale hanno segnato anche il costaricense Campbell e Camillo Ciano. Uscito per problemi fisici a metà primo tempo, Parigi sostituito con Scarpa. La Paganese la prossima partita la giocherà il 23 gennaio con Siracusa. La Juve Stabia, prima classificata nel girone C della terza serie, sta puntellando la fascia sinistra della difesa. Il DS Polito ha preso il giocatore Luca Germoni, classe 97, che arriva dalla Virtus Entella e può sostituire nel ruolo l'olandese Aktau, che ha rescisso pochi giorni fa. Potrebbe ora arrivare anche un altro tersino sinistro, il giocatore Daniele Mignanelli, classe 93, che si giocherebbe il posto con lo stesso Germoni. In arrivo anche un fantasista, Giuseppe Torromino, che giungerebbe dal Lecce. La casertana ha ricevuto una proposta dall'Avellino per l'attaccante Luis Alfageme, che proprio nelle prossime ore potrebbe cambiare maglia e scendere così in Serie D. Al momento è questo l'unico movimento che potrebbe avvenire in uscita dai falchetti.